Io sono Santoli, Canonico purtroppo sta dall'altra parte e non vuole essere con noi questa sera. Canonico e Santri è un'esperienza dell'Irpinia, stiamo cercando di valorizzare i buoni prodotti della nostra terra partendo dai vini. Andiamo ogni anno alla ricerca delle uve migliore che poi attraverso i nostri bravi, i nostri enologo, i nostri contadini trasformiamo in quelli che per noi sono l'eccellenza dei vini della nostra terra. Produciamo i tre vini Doc dell'Irpinia, quindi l'Aglianico come rosso e come bianco abbiamo il greco e il fiano. Abbiamo dedicato, siamo stati attenti anche nella ricerca dei nomi, siamo andati alla ricerca delle divinità della nostra terra e quindi abbiamo come Agianico il nostro Irpus, l'Amefite è il nostro greco e Iside è il fiano. La nostra è un'azienda che nasce tre anni fa, quindi siamo veramente un'azienda giovane. Tre anni sono importanti per un'azienda vinicola anche perché dall'anno prossimo avremo il nostro primo Taurasi e quindi siamo in attesa che questo possa avvenire a breve. Finalmente usciremo con un Taurasi a cui noi teniamo particolarmente.